Un'offerta formativa pensata per i futuri professionisti della comunicazione digitale a 360 gradi. Il corso di laurea magistrale in gestione dei contenuti digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali si propone con una struttura innovativa e fortemente improntata al mondo lavorativo. Il corso infatti unisce una solida formazione teorica ad una serie di esercitazioni pratiche in linea con le richieste del mercato del lavoro. Il GECO è una laurea che emerge da una domanda del territorio, per cui è una laurea in comunicazione, una laurea specialistica in media e comunicazione in gestione del contenuto che risponde a una richiesta che è stata fatta all'università dal tessuto produttivo della provincia, della regione e del paese in generale. E cioè formare figure in grado di ottimizzare, gestire e sostanzialmente curare al meglio la comunicazione di quello che è l'effettivo tessuto produttivo e istituzionale italiano. Quindi scegliere il GECO oggi perché dà una formazione d'avanguardia, perché è una laurea orientata all'innovazione e all'autoimprenditorialità e perché è una laurea che viene incontro a quelle che sono delle esigenze e delle richieste del territorio. Per lanciare il corso magistrale l'Università Cattolica ha in programma per mercoledì 4 maggio GECATON, una competizione tutta improntata al mondo della comunicazione che premia la capacità di problem solving. Il GECATON è proprio un evento che emerge dalla spinta innovativa della laurea GECO. Il GECATON adotta la formula dell'HACATON, che è un evento nato all'interno del mondo dell'alta tecnologia in cui sostanzialmente una serie di persone creative si trovano all'interno di un ambito e in un lasso di tempo ristretto lavorano insieme intorno a un problema. E da questo tipo di compressione della creatività nello spazio e nel tempo emergono regolarmente moltissime idee e progetti innovativi. La nostra idea è di applicare questa formula all'ambito della comunicazione per cui il GECATON mette gli studenti e i futuri studenti del GECO davanti a tre possibili scenari uno scenario che viene dal mondo dell'industria, uno scenario che viene dal mondo delle istituzioni e uno scenario che viene dal mondo delle start-up e chiede loro in tre ore di elaborare dei prodotti comunicativi in relazione a ciascuno di questi tre scenari. È un'occasione per gli studenti per conoscersi, per mettersi alla prova, per divertirsi ma anche per fare networking perché saranno presenti all'interno di questo evento i rappresentanti di ciascuno di questi tre mondi che saranno anche incaricati di valutare i lavori degli studenti e è un'occasione per loro per applicare delle metodologie e dei modi innovativi di creare prodotti per la comunicazione.